Carissimi amici arrivato per il YouTube e oggi torniamo qua a parlare di Ice Cream 5 E di uno dei segreti più importanti del gelataio Ebbene sì perché il gelataio ha sempre parlato di un gelato segreto Di un gelato speciale e di un gelato a base di Chubby Boy Quindi oggi in questo video voglio provare a scoprire insieme a voi quale gelato è Dove si trova? Sì in realtà già in passato ho fatto dei video proprio dedicati al gelato segreto di Rod Ma oggi parleremo di un altro gelato Non quello che si trova nella zona segreta del museo di Joseph Ma di un altro gelato ancora Che ne arrivo nel quinto capitolo E quindi che dire partiamo subito Ma come sempre siete qui sotto tantesimi like Se like che lascerete sarà pari L'oggetto associato a voi sarà il Nan-Nan Cola La Coca-Cola di Evil Nan Se invece la che sarà Despari l'oggetto associato a voi sarà il gelato di Rod Fatemi sapere qui sotto nei commenti a quale oggetto siete associati Iscrivetevi al canale con la campanella attiva Così anche voi farete parte della Farino Femmile Adesso partiamo subito Cominciamo ma andiamo con calma Andiamo facendo dei passi alla volta Tocchiamo un attimo gioca Ci serviremo sempre di Escrune 4 per poter fare questa parte qua Stavolta non saltiamo la intro La vediamo insieme perché La prima volta che si parla di un gelato a base di Chubby Boy Compare proprio qua nel film iniziale Di questo capitolo Infatti come possiamo ben vedere qua Jay il personaggio è stato catturato Dopo che lui stesso ha deciso di diventare un Chubby Boy Dopo che lui ha deciso di mangiare il gelato segreto di Rod Sta arrivando qua All'interno della fabbrica Guardate bene le finestre della fabbrica Sono su due piani Cosa ci fa appunto capire Che la stanza di estrazione La stanza rosa È sul divido appunto su due piani Ed ecco qua Il furgone è arrivato nel punto finale Nel garage Quindi adesso si chiude tutto quanto Raddino con il suo caro ascensore Salire nel piano superiore E anche questo ascensore abbiamo visto Che può salire ancora di più Può andare in piani ancora più in alto Ma soprattutto possiamo notare qua Un Roddino tutto quanto contento Che adesso si metterà a cantare la sua canzone A base di Chubby Boy Come sempre Roddino Vabbè ma tanto quella sappiamo bene questa canzone Lui dice finalmente Ho catturato questi Chubby Boy E li spremerò per bene Mamma mia Rodd Come ci vuoi spremere Perché vuoi spremere questi poveri fanciulli Guardateli qua No la cosa bella è che finalmente rivedo pure Charlie In questa scena A me fa troppo ridere qua A Charlie che cerca di aprire sta gabbia Senza poter far nulla E ora lui qua Guardatelo lì Davanti alla famosa porta viola L'abbiamo visto un sacco di volte questa scena Però è una scena molto importante Perché qua finalmente si parla Di spremute Cioè si Spremere comunque Dei fanciulli Per poter estrarre qualcosa Per poterci fare Un gelato Quale gelato vorrà mai fare Rodd? Perché ha bisogno proprio di Chubby Boy Per poter fare questo gelato La cosa è molto sospetta È veramente segreta Quindi adesso possiamo pure Schippare qui Il filmato E lì dietro c'è appunto La famosa stanza di estrazione Dove Rodd porta I suoi poveri Sì vabbè Non i suoi poveri Però le sue vittime All'interno di quella stanza Lì dentro c'è un macchinario Un macchinario che serve per Spremere Questi fanciulli Ma Roddino caro Ma sarò io Spremerti Ti spremerò io per bene Adesso invece passiamo velocemente Al trailer di Ice Cream 5 E sentiamo bene Una frase molto importante Che dice appunto Rodd Ok è partito il trailer Ma soprattutto adesso Qui vedremo Rodd Che non è più felice Come prima E' arrabbiato E' arrabbiato Perché i suoi Chubby Boy Sono scappati Eccolo qua Tutto arrabbiato Guardatelo lì Come scende Ma soprattutto Adesso ci sarà Una cosa molto importante Dice Non mi devo preoccupare Più di tanto Perché Tardi O presto Diventeranno Il gelato Proprio loro stessi I Chubby Boy Torned in Ice Cream I Chubby Boy Diventeranno Dei Chubby Eh sì I Chubby Boy Diventeranno Dei Chubby Boy Dicevo I Chubby Boy Diventeranno finalmente Gelati Ma quindi adesso Di quale gelato Sta parlando Rodd Tra l'altro Proprio mentre pronunciava Queste frasi I fanciulli Si muovevano All'interno dei condotti Andevano qua e là Da notare le mie braccia Come si muovono Tutte quante si nuose I nostri cari amichetti Si stavano spostando Da una zona all'altra Mike è finito Nella sala macchina Gli altri due Non so che fine hanno fatto Da qualche parte Saranno finite Ma adesso Cercheremo insieme Di scoprire Questo gelato segreto Che è Rodd Un gelato molto particolare A quanto pare Il nostro caro Roddino Non solo aveva Il gelato che trasforma I fanciulli in Chubby Boy Ma un altro gelato ancora Perché ha questa esigenza Di fare un altro gelato Cosa ci deve fare Qual è il suo scopo E se quel gelato Fosse stato creato Inizialmente da Joseph E lui ha intenzione Di continuarlo Forse Joseph Il gelatoio bugiardo Aveva in mente Altri piani cattivi Che noi ancora Non sappiamo Ma che scopriremo Molto molto presto Ma soprattutto Che dovremmo fermare Perché sicuramente Non sarà nulla di buono Torniamo adesso Su Ice Cream 4 Con la moda di Outfit E cercheremo insieme Di scoprire Dove si trova Questo gelato E come verrà fatto Ok Siamo tornati Dove eravamo arrivati prima Quindi Prendi qua La chiave inglese Come sempre Su su Prendi qua Raccogli Raccogli Togliamo sto locchetto Perfetto Ok Ciao Minirad È stato un piacere È stato un piacere Appena in tempo Appena in tempo Sono riuscito a girarmi Meglio ancora Meglio ancora Apri qua il condotto Perfetto Allora Prima di scapparmene via Da questo luogo Come possiamo Vedere lì dietro C'è una stanza Una stanza viola La cosiddetta Stanza di estrazione Del gelataio Su quel posto In realtà Dietro quella porta Ho già fatto Molti video dedicate Quindi oggi Non mi soffermo Più di tanto a quello Aspettate Per il Miniradino Aspettate È venuto proprio qua Davanti a controllare Meglio che me ne vado Su quella porta Comunque ho fatto Già molti video Sulla stanza di estrazione Quindi Non sto troppo A ripetermi Su quella parte Adesso salutiamo Un attimo Il nostro caro Michetto Boris Ma che bello Boris Ma che piacere Rivederti Spero veramente Di incontrarti Anche su Screen 5 Magari non so Avete visto Il Miniroad Meccanico Idraulico Quello che è Vi immaginate Un Boris In quella versione Sarebbe molto divertente Sarebbe simpatico Da vedere Adesso cerchiamo qua Il trofeo Evitando il Miniroad Trofeo Non sta di qua Passa di qua Perfetto Velocemente Apri di qua la porta Vediamo se troviamo Qui il trofeo Ok Trovato Meno male Aiuto Mi si era sbagliata Finalmente Finalmente potremmo Rod il gelato Rod il gelatoio Come sempre Come sempre Mamma mia Stavolta Qua un attimo Ha avuto Ha avuto la formula segreta Di sister Madeline E di suo padre Le ha unite E ha iniziato a creare Dei gelati segreti Gelati misteriosi Io tra l'altro qua Mi era sembrato Di aver visto qualcosa Ok No era soltanto Il cartonato di Joseph Ma il Miniroadino Mi sta seguendo Ma come è fatto A vedermi Miniroad Come è fatto A vedermi No no Seriamente Non è possibile Che tu riesci a vedermi Così E non è possibile Dicevo Stavo dicendo Rod ha avuto Le due formule segrete Quella di sister Madeline E quella di Joseph Che non è altro Che quella di sister Madeline Ma modificata da lui Le ha unite E ha creato Dei gelati segreti Uno di questi gelati È quello che trasforma I fanciulli O le persone In chubby boy L'altro gelato Invece è quello Che lui ottiene Dal chubby boy stesso Sappiamo pure una cosa Carrot Ha girato Praticamente ovunque Anni e anni Di ricerca Per trovare Un ingrediente segreto E finalmente sappiamo Qual è questo ingrediente segreto Che lui stava cercando È l'essenza Del chubby boy stesso Quindi lui spreme Questi fanciulli Per ottenere Un ingrediente segreto Un altro ingrediente Rispetto a quelli Che noi già conosciamo In questo modo Lui ha un altro gelato Un gelato fatto Con i chubby boy Ma perché Rod Ha bisogno di questo gelato Qual è il suo scopo malefico Cosa ci deve fare Raddino Tu adesso devi spiegarmi tutto D'altro voglio provare A fare una cosa Voglio vedere Se qua dietro sti quadri C'è qualcosa Che noi ancora Non sappiamo Non abbiamo visto No Quanto pare Non c'è niente Dietro sti quadri Solo decorazione Anche se vedo Dei colori così A caso Quindi magari In un prossimo video Possiamo vedere Che cosa nascondono Questi quadri Messi così Perché non mi convincono Bene No questo invece è così Non c'è niente Non c'è nulla di disegnato Va bene Allora Torniamo un attimo di sopra Andiamo nel piano superiore E vediamo qua La famosa stanza di estrazione Appena riesco a muovermi Che mi sono perso Ma dai Mi ero perso Allora Ecco qua La famosa stanza di estrazione Sappiamo bene Che questa stanza È collegata Con La discarica Che sta qui lateralmente E qua nel piano superiore Ci sta anche questo famoso condotto Che punta direttamente Verso il gelato In questo modo Il gelato gigante Del padre di Rod Mi viene adesso pure Da pensare ad una cosa Ma non è che Questo condotto gigante Si collega anche Con gli altri tubi Che hanno preso I nostri cari fancioli Anche perché Rod dice Tanto prima o poi Diventeranno dei gelati Quindi forse Chi cade all'interno Di questo condotto Finisce qui dentro E farà parte Dell'ingrediente segreto Di Rod Potrebbe essere Sta cosa qua Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Ma poi Un'altra cosa Molto importante Questi tubi Potrebbero portare Anche all'interno Della stanza segreta Quindi Magari In un prossimo capitolo In un prossimo futuro Noi potremo entrare All'interno Della stanza di estrazione Attraverso uno Di questi condotti Guardate bene Tra l'altro Casualmente Questo cilindro enorme Come abbiamo visto Già in passato E collegato Con la stanza rosa Con la stanza di estrazione Qui c'è un tubo Che passa di qua E questo tubo Potrebbe collegarsi Tranquillamente Con la stanza di estrazione Nel piano superiore Sempre della stessa stanza C'è quest'altro tubo In questo modo Che scende qua dentro E si collega Con questo cilindro gigante Nel video scorso Avevo parlato Di questo cilindro gigante Come un qualcosa Un contenitore Che può contenere Il gelato segreto Di Rod Forse lì dentro Rod sta creando qualcosa Sta creando forse Uno dei gelati Ancora più grandi Di quelli che ha fatto Suo padre Joseph Ma qualcosa Di ancora più cattivo Più malefico Cosa varrà mai farci Rod con quel gelato Cosa succederà mai Con quel gelato Noi comunque Dovremo fermarlo E lo fermeremo Nei prossimi capitoli Come ha detto Jay Quando abbiamo liberato I nostri cari amici La prima parte del piano È fatta Adesso bisogna passare Alla fase successiva Quello di catturare Rod il gelataio Caro Jay Potevi chiamare la polizia Anziché metterti a far Tutta sta roba qua Ma insomma Ma dai Comunque possiamo dire Che per il momento Il mistero del gelato Di Rod Si infettisce ancora di più Rispetto a quello Che noi sapevamo Cosa succederà ancora All'interno di questa storia Cosa vuole fare Realmente Rod Qual è il suo piano malefico Lo scopriremo Nei prossimi episodi E quindi che dire Per il momento Direi di finire qua il video Fatemi sapere cosa ne pensate Spero che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spallicciate E iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video E come sempre Vi auguro Buona giornata Buona giornata Buona giornata Ciao a tutti Buon panino a tutti Ciao a tutti